io non lo so sabato notte alle 2 20 il negozio chiudi io non ce l'ho qui domenica mattina apri è così tutto rotto tutto rotto ah si sapone anche così è tutto rotto ho visto e subito chiamare il carabinero loro venire qui è tutto controllare dopo la denuncia basta così e qui tutti i avvito sopra loro dici loro sentito alle due due venti sparare tre tre colpi grazie